Buonasera, finalmente il grande momento è arrivato, è online CEPPASTORE. Finalmente potrete acquistare e scaricare i migliori software qui su CEPPASTORE. Allora, apriamo la nostra attività con un software indispensabile per tutti coloro che vogliono essere e diventare dei veri cantanti maledetti. Dopo il grande successo del software Tom Waits versione beta, usata, lo ricordiamo, da grandi artisti del calibro di Cesiro Scrocchia Zuppa o Lupo Rino, finalmente la versione italiana. Signore e signori, è con grande orgoglio che vi presento Tommaso Aspetta 4.7. Dice perché 4.7 e perché no? Perché devo spiegare a voi come chiamo i prodotti che vendo io? Perché sì, la risposta è perché sì. Ecco, ma cosa comprende il software Tommaso Aspetta 4.7? Comprende un cappello acciaccato, un paio di meravigliosi baffi, due splendide basette, due splendide basette indispensabili per il vero cantante maledetto, più una terza basetta di riserva per ogni evenienza, non si sa mai con queste basette come va a finire, dei resti di rasatura da applicare sul volto attraverso un prodotto esclusivo che noi vendiamo, del sudore concentrato di trapezista per far aderire meglio la peluria sul volto, un muro di mattoni da mettere alle spalle con delle scritte minacciose in penombra in puro poliuretano espanso. Vuoi essere poi davvero un cantante maledetto? E allora hai bisogno di maledizioni. E noi siamo qui per questo. Offriamo con Tommaso Aspetta 4.7 delle meravigliose maledizioni che vi presento ora. Te possino acciacca? Te possino fa' un nido le vespe dietro la testiera del letto? Te se possa intasà la tazza del cesso? Te posso aprire una scuola serale di flamenco al piano di sopra? Te possino fa' il pomeriggio della taranta mentre stai a fa' le parole crociate senza schema? E poi abbiamo bisogno di parolacce. All'acquisto voi avrete diritto a tre tra le seguenti parolacce. Birba Biricchino Stolto Sciocco Pusillanime Balordo E ai primi 37 acquirenti Un biglietto omaggio per il circo Tarazuma Che voi ben conoscete Chiudendo vi ricordo che gli effetti speciali sono stati realizzati dall'illustratore ceppico Manfredi Ciminale Il software può essere acquistato direttamente qui oppure su www.ceppastore.croce Outmin Rick Buonasera